Amici di Marci Games, bentornati! Non siamo a fuoco! Evviva, aspetta. Amici di Marci Games, bentornati su FIFA 23 Carriera Calciatore. Allora raga, abbiamo tante cose da dirvi. Prima cosa, mi scuso perché non ho capito, io non avevo... Cioè raga, sono stupido, non avevo visto che potevamo fare altri allenamenti. Facevamo solo dribbling, quindi scusatemi, d'ora in poi, sistemeremo questa cosa. Ci hanno detto una cosa molto importante, di non allenare solo le cose che vogliamo noi, ma di fare anche reattività. Che non ho capito dov'è, in realtà, forse in velocità. Vediamo, velocità scatto, archetipo ghepardo. Non ho idea dove sia, forse questo. Reattività, questo metodo di farlo assolutamente, che è importantissimo, di farle tutte e due. Quindi li facciamo entrambi e ci siamo. E facciamo aggressività, via. Ah, ne ho cinque, ops, scusami. Intercettazione, non ci interessa, andiamo avanti così, teniamoci questi due. Facciamo anche una cosa che ci avete consigliato e continuate a consigliarvi un'altra cosa importante, raga. Mi sono reso conto che io molti che guardano FIFA non sono iscritti. Cioè, su un serio? Non va bene. Il 35% non è iscritto. Quindi, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Giochiamo. Oggi abbiamo partito con la Juventus. Faremo sei partite oggi. Tre simulate e tre giocate, quindi speriamo di fare qualcosa. Un salutone a Silvio. Un salutone a Silvio, raga, che ci ha abbandonato. Il presidente del Monza che ci ha lasciati. Vai, 28 gol. 28 gol in un po' di partite. Allora, valutazione del partito a 7 e mezzo, gol più assist, quindi segna o serve almeno un gol o un assist, quindi solo un gol. Però dobbiamo fare possesso palla 55, ma dobbiamo migliorarlo. Quello mio. Quindi è tua. Dobbiamo ottenere un botto. Ci hanno consigliato una cosa. Quando bisogna fare il possesso di perdere tempo nella nostra area che ci dà un sacco di possesso. Ah, ok. Cragno. L'uomo Cragno. Secondo me gioca di... Quindi non gioca di Ghegorio. Non amo tantissimo giocare con la neve, posso dirtelo? Sì, anche io. Eccolo! De Marci, nello spazio! Un attimo! Mamma mia! Sta volando! Lo provo da qua! No, non farlo. Cioè, voi... Guarda, guarda il nostro allenatore. Il palla. Aspetta che ci sono... Guarda che sono qua. Tieni, bra. La tiro al volo, eh. No, non farlo, bra. La metti in mezzo. Mamma, che palla! Urca! Ti vedo? Eh, ti ho visto, ma... Cosa è successo? Non ho capito. Filtreggia! Di là. Bella! Che peccato! Ecco, la riva bisogna dargliela, eh. Ma perché? Perché, sì. Perché è la prima in classifica. Ma vero? Eh, mi sa di sì, eh. Ah. Non rispecchia la realtà, chiaramente. Marlon! Parla per De Marci, pazze. Ok. È una palla che forse non avrei dato io. Però hai fatto una gran giocata, perché adesso... Qua hai veramente sbagliato, eh. No, 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 no. No, no, qua hai veramente... No! No! Pessi... Mamma mia. È perché c'era la neve. Rifalli di mano, raga. Ho provato in single play, in single play. Da solo, no. Da sempre rigore. Da sempre rigore. Ma proprio sempre. Qualsiasi volta che tocchi la palla è rigore, quindi no. Io seguo un pochettino. Vengo a prendermela come se fossi c'è la noglu. Eccolo qua. No, vattene via. Smettila, perché già... Prima della partita, l'ho visto, avevi già la stamina bassissima. Quindi vai via da qua. Occhio che la passa in mezzo. No, 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 no. Ma come ha fatto a prenderla da qua? Bravo, Luca! Luca Caldi. Aspetta a darmela. Ora. Va bene, va bene. Eh, a chi la do? Io... Allora, qui dietro. Sono qua. Che cosa nooo, nooo. Ti avevo dato una palla camorosa. Una palla incredibile, era magia. Era una magia. Ma perché Ottavio gioca nella Juve? Ok. Pam! Ops. Non hai riziato. Eh, sì. Vabbè, è giallo, perché era so... Giallo. No, neanche. Niente. Il segnale era rosso, praticamente. Era una piccola tibia che saltava. Siamo attenti, raga. No, Moise Ken, no. Moise Ken. Mamma mia! Ma chi è un otto? Ma quello doveva uscito, Vlavic? Ma oggi Luca Caldirola è... Mamma, ma Caprari, mi sembra veramente l'io nei tempi del bar... Del bar. Del bar. Del bar. Letteralmente. Per il gioco, direttore, direttore! No! Io l'ho visto. Però non so se anche Lovano l'ho visto. No, no, non ho visto niente io. Aspetta. Segui, segui ora. E ho... Ah! Sì! C'è che ha fatto gol! Al 47esimo. C'è che ha fatto gol! Non so, mi ricordo, birindello! Birindelli su un assist, è clamoro! Non è più birindelli, è birindello! Birindelli... Mamma che gol! Bello, carino, carino. Bellino. L'assist me l'ha dato, però, dai. Daglie, daglie. Mi sa che l'assist me l'ha dato. Certo. Daglie de d'acco, daglie de punta. L'Inter. Oh, l'Inter non vince! Sto pareggiando. Non ci credo! Eh, lo Spezia ancora in Serie A. Guardatevi il vlog che ho fatto, ovvero una Spezia, perché è bello. Quasi, percentuale. Quasi, percentuale. Percentuale. Daglie. Ok, cerchiamo di passarci molto là. Adesso, facciamolo adesso. Devi farlo fino a tipo al cinquantesimo, basta. Facciamo che rivitiamo queste cose che fanno schifo. Sì. Ok. Uno, due. Eh, ho provato a dartela. Male, ero in mezzo. Ho provato a dartela, ho fatto di tutto. Vabbè, io faccio sempre cinque con la partita, va bene così. Ci sta che non segniamo sempre. In qualunque caso, quello che io dico è che dobbiamo vincere. Cioè, il nostro obiettivo è quello oggi, perché dobbiamo passare la Juve. Sì. Sì, provala. Fai gol, fai gol. No! Era un gol di testa clamoroso! Era buildato bene. Però stiamo veramente facendo quei passaggini che ci mancavano. Era buildato bene. Questo è un buco, invece. No! 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 Psicopatico! Mamma mia. No, no, è un psicopatico, è un malato, quello. Ora. No. Ora non è più. Tac, guarda. Ti vedo. Sì! Di sinistro. Bello. Furca! Buildato. Allora, ci hai detto una cosa. Di alzare leggermente l'altezza del giocatore, perché è molto basso. Ma no, è bello così. Ok. No, era giù, era buona. Hai fatto bene. Hai fatto bene. No, l'ho visto, è un maniaco. Ma secondo me è un bug. Sì, 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 sì. No, no, vado su, vado su. No, 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 no. Su, 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 su. Su. Toc. Eh, no, no, no. C'è. Sì che ci sono? Per dare questo pallone magico? No, no, su, dietro, su, dietro. Uncillo. Per gol. No! No! Ma dai! Ma dai! Aspetta, aspetta, fammi andare in posizione. Al volo, aspetta, al volo. E balde punta. È proprio quel momento. È quel momento del game. È quel momento del game. Sì? Aspetta, dove... Niente, non ci siamo pro... Non c'è. Marci 7 e mezzo al pela, quindi bisogna per forza fare qualcosa. Siamo proprio al pelo. Brutta si si mi ha messo a centrocampista centrale tipo. Vai Guardati Gregorio a camminare in giro per la neve. No era Cragno. E vinciamo con la Juve. 7-6 va bene torno giù a prendermela. Si gira. Pericolosissima sta palla. Pericolosissima. E' quella con il tiro teso. Pericolosissima. Monza 2. Juventus 1. E' un deja vu quasi. 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 2-0 1-0 era. 7-7. Dai. No Marlon migliore in campo. Però non è giocato bene. L'Inter ha pareggiato incredibile. E questo è incredibile. Ora facciamo direttamente i prossimi allenamenti. Mi sa che ce li fa cambiare. No. No rimangono questi. Scusate per quello di F. Noi siamo sesti. E per vincere il campionato. Non siamo lontani. Non è lontanissimo eh. Allora aggiungiamoli. Magari facciamone un paio. Facciamone uno sui tiri. Quale faccio? Scenari di contropiede. Dai. Facciamo scenari di contropiede. Colpi di testa difficili. Dai. Questo. E l'ultimo cosa faccio? Facciamo un difesa. Difesa dai. Facciamo un difesa e facciamo intercettatore. Vamos raga. Li faccio. Cos'almeno poi magari off camera li rifaccio tutti da solo. Ok. Vamos raga. Bravissimo di amarci. Ah devo fare il contropiede. me. Buono. Guardi per forza passarla. Sì. Mamma. Bello. Bravo. Bravissimo. Bravissimo. Il nostro amico di amarci. Ci fa un A. A nei contropiedi. Buono. Colpi di testa difficili. Eh. Cross. Non ho capito cosa devo fare. Ok. Anche in questo qua raga. Dai. Ora facciamo l'ultimo. Questo che è bellissimo. Lo faccio nell'altra carriera tante volte. Devi intercettare la palla. Molto bene. Anche l'ultimo fatto con la A. Molto 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 bene. Finalmente raga. Almeno saliamo un pochettino di più in teoria. Esatto. Abbiamo 5 punti di abita. Facciamo quello che avevamo detto l'altra volta. Dai. Facciamo quello che avevamo detto l'altra volta raga. Che dovrebbe essere. Se non sbaglio. Ah. Ecco qua. Archetipo. Archetipo. Toro. Toro. Questo. Boom raga. Vai. Questa è devastante. Un gran toro. Un gran toro. Andiamo vai. Facciamoci. Simulata questa nuova partita. E poi ne facciamo dire un'altra. Perché sono un po' troppo lungo raga il video. Però sai. Simularle tutte. Il problema sapete cos'è. È che rischi di non vincerle. Esatto. Come meno 15. Ah. Perché chiusi. Chiaramente non fai gli obiettivi. Non fai gli obiettivi. Fai gli obiettivi. Vabbè dai. Ce la giochi ancora. Abbiamo quasi 50.000. Possiamo fare il primo investimento. Possiamo farlo. Facciamo il primo investimento. Dai. Svolgiamo. Simula tutto. Olè. Abbiamo da fare la prima attività. Il primo investimento raga. Ah. Fondi 50.000. Ricavi. Ok. Invece questo qua. Team eSports. Sì. Questi qua costano un po' troppo. Io farei il team eSports. Vai. No. Qui facciamo ok. Abbiamo 60. C'è da fare qualcos'altro. Ci giochiamo la prossima partita con la Fiorentina. La Fiorentina non so che classifica abbia. Vediamo. No. No. Noi siamo ottavi. No. Ci conviene giocarla questa qua. Vai. Di amarci. Allora. Vediamo un attimino i suoi obiettivi. Sette e mezzo sicuro. Due gole questa volta. Il 60%. Bene. Tanto 60. 60. Tanto. Iniziamo a girare un po' tra Marlon e Baglieco per favore. Abbiamo un bel po' di stamina stavolta. Occhio. Dai. Chi è che sta giocando? Cranio di Gregorio. Dai. Porca miseria. Ma iniziamo così male. Dai. Per favore. Facciamo gol. Via. Bellissima. Oh. Oh. Non ci sono. Sono fuori gioco. Vai ora sì. No. Ma perché? L'avevo presa. Ma cosa sta succedendo? C'è dell'ignoranza veramente ignorante. Ma veramente tanto eh. Sì gol. Bella. Vamo. Grandi. Però non ho l'assist. Eh lo so. Va bene. Va bene. Va bene. Lo stesso. Va bene. Lo stesso. Mamma Balde. Bella. Era bella. Era bella. Ci posso stare. Ci posso stare. Ci ho un po' provato raga. Non era così facile come poteva sembrare. Difficile sempre capire come si muove sto giocatore. Buono. 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 Dai. Dai. Non ti preoccupare. Devi passare. Era dentro? Era dentro. Era bello. Aspetta che sono. Dov'è che sono? Perché sono l'ultimo uomo. Da qua. Mamma mia. Non lo so eh. Vado a marci. Mi è parso alquanto ottimista. Sì è un po' troppo ottimista. Lo ammettiamo. Sì tu ha. No. La parata. È assist? No. No. Non era assis. Marcia la parata portiera. Porca miseria. Eh ma non te lo dà l'assist su FIFA. Va a fare. Niente. Tarracciano è diventato il nuovo Ederson. Non sei pronto di lui. Valde. No. Adesso no. Sei uno scemo sei. Eh. Eh direttore. Ma è un mess. Ma che cacchio. Comunque c'è andata a fine anno di che mia squadra andrà all'Inter. Io ci sto. Io ci sto raga. È quel game del video. È quel game. È presente quel game. È la Latium. Mamma mia. Mamma mia. Ma adesso ti imbattiscono un'azione Barca. Ma contro chi stiamo giocando? Stiamo giocando contro la Fiorentina. Prendi la. No no. Cragno. Cragno. No. C'è qualcosa che veramente non sta quadrando in questa partita. Io proprio in questo. In questo metagame. Comunque stai raso iati di Baglieco. Neanche gli stanno andando eh. Sì. 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 Tira. Vabbè. La prossima volta tiro io. Basta. No. Di Gregorio veramente eh. Di Gregorio come Cragno. Non male che mi sono fermato. Hai visto? Direttore. Oh hai riuscito a fermare la figlia. Sì. Non a te. Ma lui. Giro. Questo è il football. Questo è il football. Sì. Ma non Stiamo facendo gli obiettivi di Marce. Fratello dobbiamo vincere però eh. Sì. Lo capisco benissimo. Ma adesso ero libero. Non è libero per nulla. Ero liberissimo raga. Ditevi. Va bene Marcello. Giusto per farsene col Panic che è il tuo idolo. Sì. Toh. Beccati sto calcio. No Marcello no. No Marcello no. No Marcello. Hai diventato un bidone. Ma l'ho caricato a poco peraltro eh. Sono sicuro che... Spero che abbiano percepito del calcio nei commenti. Sì. Ma quanto è lento. Sì. No. È diventato veramente difficile. C'era del calcio eh. C'era del Liverpool di Klopp in questa azione. Ho distrutto il giocatore. Marlon. L'ho preso. No. No rigore. No no che dici. No no no. È il tuo giallo di prima. Hai preso un giallo. E quindi? È voto in meno. 6.4. Una disfatta. No no. È una disfatta. È una disfatta. No Marcello ti sei andato. Ma hai ragione. Marci. 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 Non l'ho neanche guardato. Non l'ho neanche. C'è proprio. Non l'ho neanche. Niente. È tutto andato. Voglio 500 commenti con non devi andartene. Ma era il mio? Sì. Sul primo palo. Sì però Paolo Marì poteva assicurare. Non me ne frega niente. Un belso contro Paolo Marì. Ma non so. Siamo tutti. Basta. Delusi. Da questo atteggiamento. An vedi. Sì. No. Ora. Mamma mia. Ma che timing. Non ci credo. Terracciare un mostro. Siamo usciti. No. No. Ci ha tolto. Raffaele ci ha tolto. No. Raffaele ci ha tolto. No. Brutta fine. Questa è una bruttissima fine. Ti pare non sapere quanto abbiamo fatto guarda te lo giuro. Mamma. Ti hanno messo petagna per non fare niente. Hanno messo petagna al posto nostro. Meno 25. Brutta no. Brutta. Brutta roba. Brutta roba. Io non so cosa dire. Vi saluto. Ci vediamo nel prossimo. Da Marci è tutto. Ciao. Ciao.